Trampolines è stata la mia vita abbiamo cominciato qui io e mia moglie nel 63 e abbiamo continuato fino ad oggi che sono ormai 50 anni L'hotel Trampolines è stato costruito in Romagna un territorio dove l'architettura cambia ritmi ciclici, stagionali è come se l'architettura in Romagna si rifacessero il trucco per presentarsi sempre in forma per la stagione successiva Una città sempre in forma smagliante sempre pronta ad affrontare quel lungo sabato sera che in Romagna si chiama estate Nato negli anni 60 il Trampolines è un luogo che si è evoluto costantemente nel tempo passando lentamente da parco giochi, da parco divertimenti a ristoranti Quelli erano anni che secondo me tutto quello che si faceva diventava importante Ci voleva la volontà, una gran volontà sacrificio e poi avere visuale in avanti cioè vedere molto in avanti cercare di vedere che cosa poteva succedere domani Allora avevo fatto un business con questi tappeti perché tutti volevano saltare io alla notte dovevo chiuderli perché la gente si vergognava di farsi vedere di giorno saltare che non era capace però di notte nel buio andava a saltare Con un grande salto dopo 40 anni di aggiustamenti continui è diventato anche hotel Oggi abbiamo una struttura alberghiera con un ristorante e quindi si chiama Trampolines Suite Hotel Mi era stato chiesto di progettare un grande rinnovamento del Trampolines pur facendo fede alla tradizione e alla sua storia Un progetto concepito con questa ricetta Spirito feliniano cultura minimalista cuore romagnolo Abbiamo seguito i tempi perché le cose cambiano e questo è un po' il gioiello della famiglia perché è riuscito a fare quello che uno ha cercato di fare Oltre alla sua storia a rendere unico il Trampolines è la sua facciata che noi qui in studio chiamiamo Scocca un elemento architettonico che richiama le forme di una nave da crociera Questa è la più estesa facciata sinora ma realizzata in Italia con Dupont Corian uno dei materiali più pregiati per l'architettura e il design contemporaneo La superficie è Tech Corian un'invenzione di Dupont è un materiale che sta cambiando profondamente il mondo del design e dell'architettura che sta avendo una grande influenza sull'evoluzione di questi settori ciò è dovuto alla sua particolare unica combinazione di versatilità modellabilità prestazioni igieniche e alle sue qualità estetiche e sensoriali questo è un materiale che è caldo e poi è un materiale che non invecchia un materiale che rende sempre la costruzione fresca si può anche pulire si può lucidare però quello che è importante è che è un materiale che si adegua all'ambiente che trova che durante il giorno per esempio è molto splendido alla sera diventa rosa quando il sole comincia a scendere poi è durevole perché è un materiale che secondo me non finisce mai la superiore versatilità e la particolare combinazione di proprietà e caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali hanno portato DuPont nel corso degli ultimi anni a operare per espandere costantemente l'orizzonte applicativo di Corian il rivestimento esterno di edifici è una di queste nuove aree applicative ed è un'area in cui riteniamo che Corian esprima al meglio le possibilità del suo speciale mix di proprietà e prestazioni la facciata esterna dell'hotel è una scocca architettonica di oltre 1000 metri quadri di superficie interamente realizzata in Corian DuPont Trampoline per noi è stato un trampolino di lancio per il mercato delle pareti ventilati esterne Alta è un'azienda che lavora solo e soltanto Corian per grossi brand italiani ed esteri Alta realizza soluzioni di arredo e architettura per numerosi settori residenziale, sanitario, navale, ristorazione, negozi e rivestimenti esterni di edifici partecipa a progetti internazionali e collabora con importanti aziende e architetti di tutto il mondo Anche gli interni dell'hotel gli arredi della hall, delle camere e del ristorante evocano quelli di una nave e utilizzano Corian DuPont come materiale di realizzazione Siamo molto lieti di vedere Corian associato al Trampoline Sotel un progetto imprenditoriale e architettonico decisamente affascinante che riflette in modo esemplare lo spirito imprenditoriale della Romagna e dell'Italia intera è un progetto che inoltre riflette molto bene lo spirito di innovazione che contraddistingue da sempre DuPont e questo suo stupendo materiale che è Corian Alta è fiera di aver partecipato a questo progetto di grande classe realizzato in un luogo ricco di tradizione fascino e rilevanza internazionale Penso di aver progettato un edificio con un'applicazione innovativa di DuPont Corian o perlomeno una di quelle con maggior carattere con più riconoscibilità Sono felice di aver portato DuPont Corian nel guardaroba della lunga estate romagnola Grazie a tutti Grazie a tutti